Egittologia, antropologia, fisica. Sono solo alcune delle tematiche che i nostri ospiti, esperti studiosi conosciuti e riconosciuti in Italia all'estero, andranno ad affrontare in ambito culturale, sociale, politico. Ecco a voi Pianeta Terra, un progetto realizzato dal circolo culturale Passepartout, il Club dei Viaggiatori, associazione di promozione sociale di Rivarolo Canaveso. Marco De Michelis è specialista in storia del Medio Oriente e del pensiero islamico, dall'origine alla contemporaneità. Lavora attualmente presso l'Università della Navarra e collabora con la Pontificia Università Gregoriana, ma il suo curriculum comprende anche precedenti attività universitarie in Italia, come ricercatore presso la Cattolica di Milano e professore a contratto presso l'Ateneo di Torino. Ha pubblicato oltre 30 articoli su riviste specialistiche e una decina di libri in italiano ed inglese, sia di carattere più divulgativo che scientifico. Il più recente di questi, Violence in Early, Religious Narratives, The Arab Conquest and the Canonization of Jihad, costituisce un'importante elaborazione degli ultimi due anni di ricerca svolti come Marie Curie Research Fellow in Spagna. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Questa è l'ultima lezione del nostro corso dal titolo Islamofobia e storia. Ci eravamo lasciati un mese fa in una situazione di chiara difficoltà relazionata all'emigrazione in massa di persone dal Medio Oriente, dall'Afghanistan in particolare e ci troviamo oggi in una situazione terribile e alquanto problematica con la guerra in Ucraina. Naturalmente questo evento non fa parte del nostro corso, non è di materia attinente agli aspetti che abbiamo trattato lungo queste sei lezioni precedenti, tuttavia è importante anche su questo aspetto partire da una riflessione. Nel mese di dicembre una riflessione, cerchiamo subito di sottolineare l'aspetto che la guerra in Ucraina è una guerra terribile, una guerra di aggressione da parte della Russia putiniana verso un paese che in seguito a varie manifestazioni popolari era riuscita a defenestrare i presidenti filoputiniani al suo interno. Tuttavia siamo ancora in uno scacchiere, in una forma mentis di età dei nazionalismi e quindi anche l'Ucraina ha geograficamente delle aree, a maggioranza russofone, dove gran parte della popolazione si sente per aspetti culturali o linguistici più vicina alla Russia e a Mosca che naturalmente a Kiev e alle sue tendenze di annessione all'Unione Europea. Ci troviamo di fronte però ad un aspetto che può essere chiaramente relazionato al discorso islamofobico, perché nel mese di dicembre dello scorso anno qualche migliaia di emigrati afghani erano stati portati attraverso pontaereo russo in Bielorussia e poi dall'aeroporto di Minsk fatti portare al confine polacco. La scelta era quella di chiaramente far scoppiare una crisi interna all'Unione Europea, a vedere come alcuni paesi sarebbero comportati con questa pressione, anche se limitata, di 3.000-4.000 persone nell'inverno della Bielorussia, come si sarebbero comportati paesi in uno specifico come la Polonia, in relazione all'entrata o al diniego di entrare da parte di questi profughi nei propri confini, quindi nei confini dell'Unione Europea. Il braccio di ferro era durato per un mese con chiaramente prese di posizioni differenti all'interno di quello che era stato il Parlamento Europeo, il governo dell'Unione Europea, senza però poter risolvere effettivamente la problematica e senza chiaramente permettere a questi 3.000 profughi afghani di entrare all'interno dell'Unione Europea e quindi chiaramente fare richiesta di asilo all'interno dei suoi confini. Come il protocollo di Dublino chiarifica, il paese di entrata e di confini nel quale dei profughi entrano sul suolo europeo sono anche poi quei paesi e quel paese, in questo caso la Polonia, nel quale la procedura per il riconoscimento del diritto di rifugiato e diritto d'asilo deve essere concesso o negato. Per esperienza personale e per lavoro in precedenti organizzazioni che si occupano di rifugiati è evidente che qualsiasi afghano che giunge in Europa a qualsiasi afghano viene riconosciuto questo diritto, perché proviene da un paese in guerra perenne e ancora più dopo la situazione e la defenestrazione degli Stati Uniti d'America dal territorio afghano, la riconquista dei talebani e il dominio talebano molto bene presente e radicato all'interno del suo territorio. I flussi quindi migratori che erano giunti in vicino Oriente, in Siria, erano stati poi in piccolissima parte, solo per questi 3.000-4.000 profughi, trasladati al confine della Polonia per mettere in crisi l'unità e la tenuta dell'Unione Europea su un aspetto estremamente caldo per la Polonia, per le relazioni che la Polonia in questo momento sta avendo con Bruxelles, Polonia ma anche Ungheria e Slovacchia e chiaramente questo aspetto aveva sottolineato appunto l'incapacità dell'Unione Europea nel essere unita e nell'avere una politica di accoglienza nei confronti di qualsiasi profugo. La guerra in Ucraina ci mostra come siamo di fronte a un problema non solo di razzismo ma anche chiaramente di islamofobia, perché adesso che entreranno nei prossimi giorni e che stanno entrando milioni di rifugiati ucraini che anche si scappano da una guerra, in questo caso di aggressione da parte della Russia di Putin e della stessa Bielorussia di Lukashenko, stanno entrando a migliaia e a milioni all'interno dei confini polacco, ungherese, rumeno e slovacco, oltre che Moldavo, ma la Moldavia non fa parte dell'Unione Europea e per loro naturalmente gli stessi paesi di prima accoglienza, sia Bruxelles, si sono mossi in maniera differente, in maniera molto più pressante, in maniera potremmo dire unita nel e cercare di sopperire le dinamiche e le problematiche relazionate a questa entrata di milioni di profugi ucraini che scappano dalla guerra. In un corso naturalmente che considera l'islamofobia come un aspetto deterrente di una tipologia di comportamento è evidente che gli afghani non avevano gli stessi diritti degli ucraini e continuano a averceli, pur entrambi in fuga da una situazione di guerra, di distruzione, anzi una situazione che da un certo punto di vista vede chiaramente la situazione afghana come differente, perché in questo momento in Afghanistan non c'è una guerra, ma la fuga degli afghani dall'agosto a settembre dell'anno scorso è proprio relazionata ed era relazionata al fatto che coloro che stavano scappando dal paese non volevano più vivere sotto il dominio e sotto il regime talebano. In questo momento gli ucraini che scappano scappano da una guerra e scappano anche dalla possibilità che in un futuro a Kiev ci sia un governo nuovamente filoputiniano e sotto il controllo appunto del regime di Mosca. Questo aspetto è ancora tutto da considerare, da vedere in relazione a come le possibili tregue e gli scambi pistolari, gli incontri diplomatici muoveranno i propri passi negli prossimi giorni, tuttavia il comportamento dell'Unione Europea, il comportamento dell'Occidente e il comportamento dei paesi di confine, in questo caso non l'Italia, non Malta, non la Spagna, ma la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia è stato chiaramente opposto. E questo ci porta di nuovo a riflettere su quanto a prescindere dallo status di profugo, al prescindere dallo status necessario di rifugiato richiedente asilo, vi è una forte relazione islamofobica e di razzismo nei confronti di coloro che provengono da aree geografiche diverse, professano una religione diversa, partendo dal presupposto che sono tutti profugo e che tutti stanno scappando da una situazione di evidente crisi, di indigenza, di collassamento del proprio stato di appartenenza e del proprio stato di cittadinanza. Quindi questo aspetto ci porta a dover chiaramente affermare senza grossi giri di parole che l'islamofobia è ben presente anche quando, tra virgolette, questa guerra non ha alcuna relazione con il mondo islamico, con il Medio Oriente, con l'Islam. Ci eravamo lasciati l'ultima volta a disquisire su quanto l'islamofobia dopo gli attentati terroristi dell'11 settembre ci avessero impedito all'Occidente di vedere le cose in maniera chiara, di vedere gli aspetti dirompenti della relazione tra mondo occidentale, tra mondo cristiano e mondo islamico, vicino e Medio Oriente, come una relazione che continuava a creare delle miopie evidenti. Dieci anni dopo l'11 settembre una parte in parte di questi paesi si erano affermate questo percorso di primavera arabe, cioè queste masse di milioni di persone che scendevano in piazza per manifestare contro il regime autocaratico di appartenenza e nel giro di pochi mesi riuscivano a defenestrare pacificamente il satrapo di turno, che fosse Ben Ali, che fosse Mubarak. L'Occidente democratico, e che si afferma tale, era rimasto alla finestra a vedere quali sarebbero potuti essere gli scenari futuri. Ma rimanendo alla finestra e non assumendo una posizione definita, aveva anche poi permesso nel lungo periodo all'autocrazia di riprendersi dallo shock iniziale e di trasformare in alcuni casi appunto delle primavere in guerri. In Libia, in Yemen, in Bahrain, anche se dimenticata, e chiaramente poi in Siria. Il secondo passaggio, relazionato al fallimento della primavera siriana, è chiaramente all'incapacità dell'Occidente di un intervento più massiccio. Un intervento, possiamo dire, che nulla può essere, che non può essere in alcun modo comparato con l'intervento che in questi giorni le potenze europee e gli Stati Uniti d'America hanno messo in atto in relazione alle sanzioni contro Putin, il regime putiniano, i suoi oligarchi e la Russia generalmente intesa. Durante l'inizio della primavera siriana, nessun paese europeo, democratico o nordamericano ha mai pensato di poter promuovere delle sanzioni efficaci per bloccare i finanziamenti, i soldi, la fuga di capitali dalla Siria verso i vari paradisi fiscali di cui la famiglia Assad è sicuramente in possesso, come conti, come proprietà, come capitali all'estero. Allo stesso tempo l'islamfobia ha avuto un nuova forma di revancismo con il fallimento delle primavera arabe, con la creazione del finto califato. Un finto califato che doveva appunto fare sì che il regime di Bashar al-Assad potesse essere annientato, ma che ha portato quindi alla creazione di quel sistema di guerra civile dove paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, con l'appoggio indiretto delle potenze occidentali ha finanziato, ha favorito la creazione appunto di un califato che già di per sé è una parola falsata nel suo significato storico per quanto riguarda il mondo islamico e la storia del mondo islamico, in contraposizione invece a quell'eggida putiniana che assieme ai Pashdarani iraniani, assieme a Hezbollah libanese erano intervenuti a difesa e a sostegno del regime di Bashar al-Assad, la famiglia Assad che era sempre stata storicamente dal 1970 in avanti alleata con l'Unione Sovietica. quindi l'emigrazione di centinaia, di migliaia di mujahideen da vari paesi europei ai paesi del mondo islamico per combattere questa nuova forma di guerra civile, certamente poco santa, che ha impattato in Siria e nel nord dell'Iraq per circa tre anni, ha rivelato non solo la pochezza organizzativa e poi la pochezza appunto intellettiva, conoscitiva di un mondo che è di un concetto, il califato, ma è di una guerra civile che poi naturalmente dopo un primo periodo di espansione territoriale si è contratto sempre di più perché lo stesso occidente che in precedenza aveva dato adito alla creazione di questa sorta di potentato locale, poi si è resa conto che questo califato gli stava esplodendo fra le mani e aveva già portato quindi al massacro delle minoranze religiose, al rischio della trasformazione di una realtà geografica senza più uno stato in un pseudo stato senza regole se non quelle dettate dal fondamentalismo islamico. Quindi l'islam di nuovo è ritornato tra il 2013 e il 2015 2016 una tematica fortemente attenente oltretutto in relazione a quegli attenti terroristici che hanno impattato fortemente sull'europeo, dalla Spagna alla Francia, al Belgio, alla Germania, all'Inghilterra. E quindi naturalmente l'afflato islamofobico è riemerso e si è stato rigenerato all'interno di quella che è la classica compagine mediatica ormai di questi ultimi decenni nel quale non si riesce mai a capire, non si riesce mai a distinguere da un lato gli attori in campo ma dall'altra parte la denigrazione dell'altro generalmente inteso, come naturalmente se tutti i musulmani fossero violenti, fondamentalisti, misogini, disposti a emigrare per andare a combattere la pseudo-jihad eccetera eccetera. E quindi abbiamo vissuto di nuovo una nuova fase islamofobica che è partita da un aspetto che abbiamo cercato di ignorare come comunità, come stati europei, come stati democratici, cioè la richiesta di riforme, di cambiamenti epocali all'interno di paesi geograficamente vicino, sulla sponda sud del Mediterraneo, poi la trasformazione di queste primaveri in guerre civili locali ha ulteriormente fagocitato il tutto in un afflato islamofobico che ancora di più è stato rimarcato con la semplicità con cui solitamente ormai i media rimarcano gli eventi. Che sia il terrorismo, che sia una pandemia, che sia una nuova guerra come quella russo-ucraina che è alle porte, che è all'interno di quella che è la geografia culturale e storica dell'Europa. Non c'è ancora oggi, a distanza di 20 anni dall'11 settembre, la capacità di poter comprendere e di poter cercare di stemperare l'afflato emotivo, emozionale di un evento, da quello che è l'impatto sulla collettività. E quindi naturalmente abbiamo necessariamente subito bisogno di un nemico, abbiamo necessariamente bisogno di un nemico che sia identificato e facilmente identificabile e abbiamo subito bisogno di vedere se ci sono delle soluzioni, delle soluzioni che in questi 20 anni non sono mai state trovate, perché l'unica soluzione che è stata trovata in questi 20 anni nel cercare di stemperare la situazione è che con il tempo, che con il tempo gli eventi che non hanno un impatto diretto o hanno un impatto limitatamente diretto sulla vita delle persone benestanti che vivono in Europa e nel Nord America, dopo un po' si spengono, per poi essere riattizzate come un fuoco quando ulteriori eventi o avvenimenti interessano determinate aree geografiche a noi vicine o anche lontani. L'islamofobia è questo, è il razzismo che c'è alla base naturalmente, è il costrutto culturale che ci porta a non comprendere quello che sta succedendo ma ad identificare per certo e per forza un'alterità nemica, ostile e poco conosciuta e come sempre quello che poco si conosce, di quello che poco si conosce si ha sempre una grande timore, una grande paura. Allo stesso tempo l'islamofobia in questa fase, in questi ultimi dieci anni, dalla devoluzione delle primavere arabe al califato di Daesh ha portato degli attentati terroristici che erano mancati dopo l'11 settembre del 2001 e che hanno portato ancora di più il problema della migrazione, dell'integrazione e della realtà islamica europea. In Europa ci sono 50 milioni di musulmani che vivono con 450 milioni di cittadini europei e anche questi stessi musulmani che sono cittadini europei, di cui un infinitesima percentuale ha deciso di abbandonare la propria terra, soprattutto giovani, per andare a combattere la pseudo-jihad per il piccolo califato di Daesh, noi ci siamo ritrovati a dover invece difenderci o pensare a dover difenderci da un nemico invisibile che ritorna, che si imbarca con i migranti africani nei barconi e dalla Libia giunge fino in Italia e poi fa gli attentati che non ha mai fatto, perché l'Italia non ha subito nessun attentato terroristico in questi anni, però naturalmente la dinamica islamofobica e di controllo dell'informazione su questo aspetto si è chiaramente diretta su questi aspetti. E quindi gli attentati terroristici subiti in suolo francese, in suolo belga, in suolo tedesco, in suolo inglese, in suolo spagnolo, hanno chiaramente ulteriormente incentivato il confronto, lo scontro e l'incapacità di comprendere molti aspetti. La risposta più intelligente che in questi anni è stata messa in atto in maniera istantanea da chi ha subito un attentato terroristico, sto parlando della sindaca di Barcellona, dopo in seguito l'etato terroristico sull'Astramblas, è stata proprio quella di annientare, sminuire e distruggere qualsiasi afflato islamofobico che cittadinanza locale, che persone locali avrebbero potuto manifestare nei confronti delle varie comunità musulmane presenti nella regione catalana. Ed è stata quella appunto di dichiarare Barcellona rimane una città aperta, cioè rimane una città ospitale, rimane una città ospitale nei confronti dei turisti, rimane una città ospitale nei confronti di tutte le persone che vogliono vivere in pace all'interno dei suoi confini di 5 milioni di abitanti. Ed è questo chiaramente una risposta adeguata per il periodo stoico che viviamo oggi, ma è sicuramente stata una delle risposte più adeguate in questi anni di neo-islamofobia, perché ha chiaramente spazzato via, ha annientato nel giro di una mancetta di minuti quella che poteva essere appunto una forma di revanchismo violento. Ed è proprio questo che l'Europa è incapace a fare, o continua ad essere incapace a fare, cioè a dare delle risposte che nel corso dei decenni possono fare sì che non ci siano più problemi relazionati all'integrazione delle varie comunità religiose che vivono sul suolo e che sono emigrate magari da dieci anni, quindici anni, vent'anni, che sono presenti dagli anni trenta, del novecento o dagli anni quaranta. Il problema, come sempre, è la relazione tra islamofobia e razzismo, tra islamofobia e paventate incapacità nell'integrarsi. Quando poi la storia delle migrazioni, basta leggere dei libri su questo aspetto, e la storia delle migrazioni italiane in giro per il mondo, chiaramente ha passato le stesse problematiche che le comunità musulmane europee stanno passando in questa fase storica. E quindi noi ci troviamo nuovamente fagocitati in una periodo storico di revanchismo nazionalista che spesso e volentieri viene associato, come durante la guerra fredda, ad un revanchismo di un nazionalismo di matrice religiosa. E quindi i turchi erdoganiani che vivono e che vedono in Erdogan un simbolo di orgoglio nazionale, ma vivono in Germania da cinquant'anni, quarant'anni eccetera, rischiano naturalmente di essere fagocitati in questa dinamica di contrapposizione tra il paese in cui hanno vissuto e hanno deciso di vivere e non più ritornare indietro in Turchia negli ultimi cinquant'anni e naturalmente il satrapo locale, ex sindaco di Istanbul, che prima democraticamente e poi sempre meno democraticamente si è imposto come figura preminente di un paese oltretutto membro nato. Siamo di nuovo e ci stiamo spostando ancora nella stessa dinamica che ha attanagliato l'Europa tra 800 e 900 e che ha portato l'Europa ad essere il centro di due guerre mondiali e poi anche di una guerra fredda con chiare problematiche, il cui problema russo-ucraino è chiaramente relazionato. E poi c'è un problema in più, c'è un problema in più che da un lato vede l'assenza di percentualità europea. Perché l'Europa dà fondi per la ricerca, per l'università, per i progetti, ma le sue regole e il suo planning di regola per ricevere questi fondi rimangono sulla carta. Cioè che da un lato questi fondi servono nominalmente per integrare maggiormente le comunità sul sul europeo, per fare progetti sulle migrazioni, sull'accoglienza, sul diritto d'asilo, sul diritto ai rifugiati, sull'integrazione di questi rifugiati eccetera. Ma poi i singoli paesi, i singoli paesi Germania, Svezia, Danimarca, Polonia, Ungaria eccetera, che ricevono i fondi e le cui università ricevono i fondi per questa tipologia di progetti, fanno progetti che non vengono sponsorizzati dai media, non vengono considerati dai media, non vengono portati l'attenzione della coletità, non sono in grado di fare una cultura se non quella limitata legata all'intervento specifico, regionale, provinciale che attuano. E quindi è come se da un lato ci fosse un governo che stanzia tantissimi fondi per creare una cultura antimafiosa, sotto tutti i punti di vista, ma poi la cultura di base rimane profondamente legata alla mancanza di meritocrazia e a uno stato mafioso che controlla tutto. E quindi c'è un controsenso, perché da una parte vengono spese risorse e dall'altra parte queste risorse non riescono ad attuare un cambiamento epocale, culturale all'interno della stessa cittadinanza e collettività. Ed è per questo che la mancanza di progetto europeo e di progetto sul lungo periodo è quello che è anche la mancanza degli stessi politici che stanno all'interno del Parlamento di Strasburgo e al governo di Bruxelles nel non riuscire a creare un consesso comune che possa, nel riconoscimento delle proprie dinamiche interne e delle proprie forme di nazionalismo, di patriottismo, di orgoglio di essere ungheresi, polacchi, baltici o altro, quella appunto di comunque aprire e vedere la necessità di questa apertura verso l'alterità e la diversità, a prescindere dall'afflato religioso. Molto più semplice con un ucraino, molto meno semplice con un afghano. Allo stesso tempo in questa fase storica di Daesh si è anche ulteriormente avvicinato un'altra problematica, si è proposta un'altra problematica estremamente interessante che associa e che ha associato in alcuni paesi il concetto dell'islamofobia con quello di antisemitismo. Soprattutto sul suolo britannico e sul suolo francese le riforme dell'ideologia del nazionalismo religioso di quest'ultimo degenio e lo scontro naturalmente di civiltà con il mondo islamico, iniziato dopo l'11 settembre del 2001, ha ulteriormente acquito la contrapposizione all'interno di paesi dove la presenza ebraica è e molto forte. La Francia ha la più grossa comunità musulmana d'Europa e la più grossa comunità ebrea d'Europa. E soprattutto a livello politico la sponsorizzazione attraverso canali di pressione culturale e politica israeliani è stata quella appunto di fare un'associazione. Musulmani, cittadini francesi, cittadini britannici che fanno attentati contro cittadini, luoghi di culto ebrei in Francia, in Inghilterra o in altri paesi, devono essere considerati antisemiti. E quindi il musulmano antisemita è diventato, anche perché in alcuni casi in maniera abbastanza superficiale e banale, ha cercato sponsorizzazioni politiche in varie frange della sinistra parlamentare o estraparlamentare, questo ha iniziato a portare a un'associazione di intenti. Quindi l'antisemitismo oggi è nelle mani di una cittadinanza, di matrice musulmana che vuole la deflagrazione delle nostre comunità e del nostro quieto vivere. Che naturalmente è una forma nuovamente islamofobica e di semplificazione che ci porta a dover fare un ragionamento molto più forte, molto più storicamente legato al continente europeo. L'antisemitismo di per sé ha una matrice esclusivamente storica ed esclusivamente europea. Dall'età medievale in avanti, naturalmente l'accusa di decidio da parte delle autorità ecclesiastiche cristiane, cattoliche e non cattoliche, nei confronti della comunità ebraica, è sempre stata presente. Fino al concilio Vaticano II del 1962-65, noi ci troviamo di fronte naturalmente ad ancora un pregiudizio storico, religioso, nei confronti della comunità ebraica. L'antisemitismo dell'affaire Dreyfus, dei pogromi in seguito all'omicidio dello zar Alessandro III, del tutto quello che succede e di lì poi la creazione del sionismo e la creazione dello Stato di Israele nel 1948, sono tutti aspetti che hanno una derivazione esclusivamente legata al nazionalismo di matrice europea, in cui l'islam non c'entra nulla. Al contrario, quando naturalmente, e questi sono anche qui dati storici, quando la riconchista in Spagna porta alla fine dei domini di matrice musulmano nella penisola iberica, la maggioranza degli ebrei che emigrano e che scappano dalla penisola iberica vanno a vivere sotto protezione musulmana, perché preferiscono essere protetti in ambito islamico che vivere o che rischiare la propria vita sotto un monarca cristiano. E questo naturalmente, naturalmente negli ultimi anni si è cercato di distruggere, si è cercato di, sia attraverso pubblicazioni pseudo accademiche, ma anche attraverso punto, un chiaro associazionismo tra musulmano europeo antisemita, che è sbagliato per due tipologie di ragioni. Prima di tutto perché il musulmano e l'arabo musulmano è semita antropologicamente parlante o quanto il giudeo o quanto il maltese. Secondo perché appunto se è vero che con la creazione dello Stato di Israele nel 1948 lo scontro intracomunitario sia nei paesi arabi, sia in altre realtà geografiche tra la comunità musulmana e la comunità ebraica si è iniziato a manifestare in maniera più evidente, per i 1300 anni di storia in precedenza questo aspetto non è evidente, tutt'altro e non si può chiaramente parlare di una visione suprematista musulmana contro la comunità ebraica e contro il giudeismo. E quindi questa associazione che ha interessato le elezioni politiche in Inghilterra quando il premier candidato Corbyn, la burista, è stato accusato di essere antisemita, manovre che naturalmente arrivano direttamente da lobby e da gruppi di potere legati a Israele, così come ho in Francia le manifestazioni e il macronismo imperante che vuole cercare ancora di più di assimilare l'islam alla Francia e all'ideologia francese al potere, noi ci troviamo di fronte con un periodo storico in cui i media hanno un ruolo sempre maggiore nel banalizzare le complessità, noi ci troviamo naturalmente a rischio di dover pensare di fare una rapida assunzione tra attentati contro sinagoghe e contro comunità ebraica in Francia legate esclusivamente alla comunità musulmana, che è un aspetto in parte reale, cioè in parte vero che ci sono stati degli attentati, a parte gli attentati di matrice terroristica che hanno portato all'uccisione di persone indiscriminatamente cristiani, ebrei e musulmani medesimi, ma allo stesso tempo ci sono stati degli attentati dimostrativi contro luoghi religiosi ebrei in Francia, così come cimiteri, come sinagoge. Però il passaggio naturalmente della violenza e del passaggio da definire i musulmani francesi come antisemiti è chiaramente una forzatura che ha una valenza politica, perché da un punto di vista religioso questa valenza non esiste, per le ragioni che abbiamo spiegato in precedenza. Però chiaramente è una forma, una nuova forma islamofobica a cui bisognerebbe prestare particolarmente attenzione, perché in alcuni paesi in cui il conflitto intercomunitario è più elevato che in quel che è in Spagna o che è in Italia, questi eventi possono essere facilmente malinterpretabili e possono essere utilizzati per fini politici per continuare ed elevare lo scontro ideologico all'interno dell'ambito del nazionalismo religioso, dell'islamofobia e delle vere radici dell'antisemitismo, che non sono chiaramente islamiche, che non sono musulmane, ma sono esclusivamente europee. Quindi quali sono alla fine i pilastri dell'islamofobia? Dopo queste sette lezioni, dopo queste ore di lezione, di monologo, quali sono i pilastri dell'islamofobia? Sicuramente il basamento è l'ignoranza e la incapacità oggi di uscire da questa ignoranza. Perché magari disinteressati, perché magari non attenenti ai propri interessi personali, perché magari legati ad un mondo che non si vuole comprendere, che non si vuole conoscere, e questo può essere facilmente immaginabile. Ma alla base dell'islamofobia odierna vi è un basamento di ignoranza sul quale sono stati costruiti degli aspetti, dei pilastri che nel corso dei secoli si sono sommati, ma che poi vengono sempre ripresi quando c'è un afflatto islamofobico soprattutto in ambito contemporaneo. E quindi gli aspetti legati al fatto che Muhammad sia un falso profeta, che chiaramente ha le proprie radici nel medioevo europeo, o che l'islam è una religione che si è espansa attraverso la violenza, anch'essa legata naturalmente a una dietrologia pseudo-storica, chiaramente di matrice europea e in parte anche medio orientale. Queste dinamiche sono, e che quindi rendono l'impossibilità del dialogo, del confronto, e che portano quindi a un suprematismo religioso, che nell'epoca contemporanea si è trasformato in un suprematismo nazional religioso, ci portano quindi a dover, come sempre, andare indietro nel tempo e vedere e considerare gli aspetti fondamentali di questa dinamica. L'ignoranza di base, che è il disprezzo verso l'altro, che è l'assunzione di essere superiori, che è la negazione dei diritti dell'altro, perché appunto essere inferiore per ragioni nazionali, politiche, religiose, fa sì che questa basamente che fa parte di quello che è il carattere umano, che fa parte di quelle che possono essere emotivamente le reazioni della natura umana su determinati aspetti, poi sono stati costruiti nel corso dei secoli degli assunti molto forti, che è molto difficile stirpare, che ogni volta, soprattutto in fase post 11 settembre 2001, ci sono stati degli eventi che hanno causato lo scontro di civiltà, chiaramente sono stati riattizzati in maniera propagandistica, in maniera mediatica, attraverso televisione, radio, social network e internet eccetera, e quindi hanno ulteriormente certificato che ciò che era stato già decretato in periodo medievale, nel periodo pre-rinascimentale, durante le crociate, durante lo scontro nel Mediterraneo tra mondo cristiano e mondo turco ottomano eccetera, era vero, quindi nel senso che tutte quelle cose che sono state, che si diceva sul Muhammad, sulla sua lussuria, sull'aver avuto una moglie bambina, su tutte erano cose certe, veritiere e che naturalmente ancora di più dimostrano che c'è un'inconciliabilità dialogica, conoscitiva, di integrazione. Poi naturalmente c'è la realtà storica, c'è quella scientifica, quella della ricerca, quella che quindi decreta la differente concetto di profezia all'interno delle tre revisioni abramitiche per eccellenza, giudaismo, cristianesimo e islam. Ci sono le similitudini e gli aspetti che nel Corano medesimo vengono attribuiti a Gesù ibn Maryam, Gesù figlio di Maria, il suo ruolo profetico naturalmente, i versetti che vengono ripresi direttamente dai Vangeli apocrifi e dai Vangeli canonici. C'è appunto tutta una concomitanza religiosa e di conoscimento reciproco estremamente valido, estremamente importante, con aspetti dello stesso cristianesimo, dello stesso giurismo che vengono ripresi in chiave islamica. Così come c'è naturalmente l'impossibilità di definire le conquiste musulmane dopo la morte del profeta Muhammad, come chiaramente già delle conquiste musulmane con una religione islamica in esistenza, mentre invece chiaramente dobbiamo aspettare un secolo, un secolo e mezzo, come per qualsiasi religione, nel considerare, nel comprendere come non si potesse all'inizio parlare dell'esistenza di una nuova religione, ma solo dell'esistenza di una nuova forma di spiritualità che aveva al suo interno e come base giudeismo e cristianosimo. E quindi si scoprirebbe anche molto facilmente che poi con le date, le date non conciliano, cioè non si conciliano con quelle delle conquiste della Mesopotamia, dell'Egitto, della Palestina, della Siria, perché queste conquiste sono troppo vicine a un periodo storico in cui l'islam di per sé come religione non c'è ancora. Anche se naturalmente poi le stesse fonti islamiche, un secolo e mezzo dopo, due secoli dopo, cercheranno di narrare come fin da subito c'è un'identità islamica, ci sono i musulmani, c'è la guerra santa, eccetera. Aspetto che naturalmente poi gli si rivolge contro nell'ambito contemporaneo islamofobico che porta quindi allo scontro di civiltà e porta a questa incomprensione. Però sono tutti discorsi estremamente accademici, estremamente scientifici, che devono essere basati sulla conoscenza, sulle fonti, su un aspetto e su una comprensione storico-critica degli eventi. Tuttavia l'islamofobia, i media, i social network per giorno non sono in grado di assorbire queste informazioni, perché sarebbe anche in questo caso troppo semplici banalizzarle, troppo semplici considerarle come troppo difficili per essere comprese. Spero naturalmente che attraverso questo breve corso si possa avere le persone che hanno manifestato interesse, possono aver compreso che l'islamofobia non ha nulla a che fare con la conoscenza dell'alterità, dell'altro, dell'islam, del musulmano, ma purtroppo ha solo a che fare con la conoscenza in negativo, con la conoscenza detrimentale dell'alterità. Mentre oggigiorno nel continente europeo ci sono 50 milioni di musulmani che vivono con altri 450 milioni di cittadini europei e tutti insieme naturalmente fanno quella che è l'Unione Europea nel bene e nel male. Buona serata a tutti e alle prossime lezioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.